Con il presidente della WISP di Arezzo, Gino Cioffini, che è intervenuto al Forum Risk, si è parlato di sport sano e soprattutto un incontro nel quale sono state fornite indicazioni utili per una pratica sportiva sicura a livello amatoriale. Sicuramente temi importanti, soprattutto prevenzione, verso la quale la WISP è molto attenta. Sì, è stato un pomeriggio utilissimo, veramente pieno di tante informazioni e tanti contributi che ci sono stati forniti da professionisti esperti nei loro settori. Tutti con il denominatore comune della sicurezza dello sport fatto in sicurezza. La WISP non poteva che noi esserci in un'occasione del genere perché per noi questo è un aspetto fondamentale. In tutte le nostre azioni, in tutte le nostre attività cerchiamo di dare la priorità all'aspetto della sicurezza. Fare sport fa bene, ma fa bene solo se è fatto in maniera sicura. Si è parlato appunto di visite di donità sportiva, la presenza dei defibrillatori, si è parlato anche del fatto che bisogna sempre fare meno fai da te e affidarsi chiaramente a delle linee, a dei percorsi, soprattutto che siano adeguati al tipo di persona e quindi di conseguenza proporzionati per quanto riguarda l'attività fisica. Tutte tematiche importanti. Sì, sicuramente. Bisogna distinguere. Nel mondo amatoriale, la WISP lo rappresenta con numeri importanti questo mondo, ci sono alcuni aspetti legati alla sicurezza ma anche a obblighi di legge che poi la tutelano questa sicurezza. Mi riferisco alle visite medico-sportive per le donneità alla pratica dello sport. Ecco, lì abbiamo, come WISP, abbiamo un percorso ormai consolidato. Le nostre associazioni ormai sono ben consapevoli del dover ottemperare a questa legge, del fare una visita sportiva e devo dire che specialmente su certi sport abbiamo il 100% di copertura di questo obbligo. Sui defibrillatori stiamo lavorando perché la legge andrà in vigore il 1 luglio del 2016 e già molte associazioni si sono attrezzate con l'acquisto di defibrillatori che poi saranno posizionati negli impianti sportivi e siamo nella fase anche di formazione degli operatori di chi dovrà utilizzare questi defibrillatori. Quindi su questo ci stiamo muovendo direi in maniera opportuna e adeguata. Dove invece, e queste cose sono emerse anche dall'incontro di oggi, dove invece siamo un po' più indietro sugli aspetti legati alla natura stessa dello sport amatoriale che è meno strutturato, ha meno coperture. Molti fanno sport in maniera individuale e l'approccio è un po' fai da te. Deve crescere una consapevolezza rispetto a quello ma rispetto a altri temi che sono stati trattati oggi, quello dell'alimentazione opportuna ed adeguata, quello dell'abbigliamento sportivo più idoneo, quello dei criteri di allenamento, dell'intensità dell'allenamento e della scelta stessa dello sport da esercitare. Tutti i temi nei quali noi ci impegniamo incontrandoci, magari avvalendoci anche di professionisti come quelli che ci hanno illustrato le loro relazioni stasera, ci impegniamo a far crescere il nostro movimento su questi aspetti molto importanti.